Infrastruttura incompleta, da Grigento troviamo il Parco Icare totalmente abbandonato, oggi il tour del Movimento 5 Stelle. Esatto, forse è ancora peggio perché questo non è incompleto, è pronto, ma non è mai stato utilizzato, è un emblema di una città, una città che ha già tantissime risorse che non vengono utilizzate, una città dove la classe politica invece di valorizzare quello che può fare crescere i cittadini e quindi la qualità della vita di tutti, perché da qua possono passare manifestazioni artistiche, può passare il fitness di chi vuole andare a passeggiare, a correre o stare con il nipotino, invece diventa un immunnezzaio, come si sono dire, una discarica a cielo aperto e questo è l'emblema della nostra città. Adesso io reputo che le cause risangano al fatto che qua la classe politica non ha mai fatto niente se non c'era un interesse personale, cioè il bene pubblico, la bellezza non è mai stata coltivata ed è un grande peccato perché noi viviamo in uno dei posti più belli della Sicilia, dell'Italia anche, mi sento di dire, i fondi turistici potenzialmente potrebbero aumentare tantissimo, i nostri ragazzi potrebbero crescere tantissimo con questo tipo di strutture e invece viene lasciato tutto un abbandono e viviamo nella provincia in cui purtroppo c'è un tasso di immigrazione altissimo, se ne vanno tutti. che i politici cominciano a prendersi le loro responsabilità, che cominciano a fare e cominciano a fare ciò per cui sono stati chiamati a rispettare il loro mandato. Valorizziamo questa terra e soprattutto i cittadini di questa terra. Ci continua non solo Agrigento, ieri Favara, Aragona, oggi si continua anche Montallegro, Siculiana. Sì, questa è un'iniziativa bellissima di Nuccio Di Paola che appunto sta verificando tutte quelle zone, quelle infrastrutture in compiute che ci sono in Siciliana e sono tantissime. Si comincia a lavorare, si dà un appalto, non si arriva mai alla risoluzione. Ma ce ne sono tantissime anche qua a Agrigento. Mi viene da pensare al parcheggio puripiano di Piazzane Rosseni, cominciato, mai finito. Mi viene da pensare ad un posto che ho scoperto in campagna elettorale, un polo fieristico, pronto, fantastico, mai inaugurato che c'è nella zona industriale. Ripeto, la causa è perché non c'è stata mai probabilmente questa reale fidanità di far utilizzare questi luoghi ai cittadini e di sviluppare il territorio. Il tour delle due Sicilie, oggi ad Agrigento, appunto per testimoniare la presenza di un parco totalmente abbandonato a se stesso. Sì, guarda, vi dico innanzitutto che Agrigento come comune non era inserito all'interno del documento che stiamo seguendo per vedere le incompiute siciliane. Sono 162. Il documento viene rilasciato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti annualmente e man mano le incompiute in Sicilia vanno sempre aumentando. Agrigento non era inserita, quindi non aveva opere incompiute all'interno del documento, però Michele Sodano e anche i cittadini di Agrigento mi hanno contattato per dirmi, guarda, qui c'è un'opera incredibile che comunque negli anni è stata inaugurata più volte, sono stati spesi miliardi di lire perché stiamo parlando di un'opera, mi dicevano, che è partita probabilmente all'inizio degli anni Ottanta. È una bella opera che potrebbe essere recuperata, però ad oggi è completamente abbandonata, lasciata alle incurie e quindi siamo venuti qui anche per testimoniare un'opera che non è incompiuta, comunque non è censita tra le opere incompiute, però è un'opera che non è fruibile dai cittadini, probabilmente perché manca di sicurezza, mancano i collaudi e mancano quegli ultimi lavori da realizzare per far sì che possa essere, dopo tutti i soldi che sono stati spesi, possa essere utilizzata. Sì, siamo in giro per la provincia di Agrigento che anche stavolta testa un record triste, noi siamo tra le province che ha il maggior numero delle incompiute. La regina delle incompiute come città è paradossalmente cammarata, c'è un'incompiuta ogni 700 abitanti. Oggi siamo qui al Parco Icori, potrebbe essere davvero un'infrastruttura, una risorsa per la città, però risulta essere l'ennesima colata di cemento armato lasciata alle incurie, ad atti vandalici, a gente poco civile che la usa come discarica, se ci sono erbacce, non è curata per niente. Ecco, potrebbe essere questa un'occasione utile per accendere i riflettori e dire a chi di competenza di prendersene cura. Potrebbe essere affidata, per esempio c'è un ottimo ambiteatro, ha delle cooperative di giovani per gestirla, o questi spazi verdi essere curati da giovani che hanno voglia di riappropriarsi del territorio, ci sono altri spazi ad estenare ad isola ecologica. Come vediamo ci sono degli spazi da poter utilizzare, il colmo è che non vengono utilizzati ma vengono lasciati ad un degrado assoluto e totale.